Dal primo giugno tornano i seminari di eccellenza in digitale. Il nuovo percorso online di formazione gratuita dal titolo Web Marketing 4.0, strumenti avanzati per la presenza online, si articolerà in dieci appuntamenti formativi. Eccellenza in digitale allo storico programma di Union Camera e Google, realizzato in tutta Italia tramite punti impresa digitali delle camere di commercio, che supporta il sistema imprenditoriale e lavorativo in Italia nell'approfondire vantaggi dell'uso degli strumenti online. La novità di quest'anno è l'estensione della platea. I webinar si rivolgono non solo agli imprenditori, ma anche ai dipendenti, ai collaboratori, ai tirocinanti, ai libri professionisti, ma anche a studenti disoccupati. La Camera di Commercio di Pistola e Prado è da sempre impegnata sui temi dell'innovazione e dello sviluppo di impresa. Da diversi anni in Camera di Commercio è presente un punto in impresa digitale che si occupa proprio di diffondere le conoscenze basiche e avanzate sul tema della digitalizzazione. Noi in Camera di Commercio la digitalizzazione l'abbiamo sempre intesa in tre accezioni. Innanzitutto come identità digitale, mi si passa il termine, come possibilità di interfacciarsi in modo smart con la pubblica amministrazione, quindi il tema del cassetto digitale, dello speed, eccetera. In particolar modo invece come settore di promozione l'abbiamo intesa sia come innovazione 4.0, quindi tutto il tema delle tematiche delle tecnologie abilitanti, quindi la stampa 3D, l'internet delle cose, eccetera, e come marketing digitale, quindi come possibilità di farsi trovare online per sfruttare al pieno le potenzialità della rete. Durante il percorso online e di formazione gratuita realizzato con la collaborazione del PIN sarà possibile capire meglio come sfruttare il web e i suoi strumenti. Si è appena concluso ora un ciclo di webinar sul tema dell'industria 4.0 che ha avuto un notevole successo ed è importante diffondere, cominciare a far diffondere appunto da conoscenze su queste tecnologie e adesso si apre a giugno il ciclo sui webinar di eccellenza digitale, è un programma storico della Camera di Commercio, di Union Camere, tra l'altro in collaborazione con Google che ci dà appunto anche gli strumenti aggiornati da diffondere e si tratta di un ciclo di webinar che durerà circa un mese con appuntamenti fissi, sono webinar quindi è possibile partecipare gratuitamente online previa registrazione sul nostro sito, è un ciclo di dieci incontri sul quale appunto vengono approfonditi i temi della SEO, del content, della usabilità, dei temi tecnici che riguardano la possibilità di sfruttare a pieno le potenzialità della rete. Grazie a tutti!